Buongiorno Erika, volevo sapere qual è il tuo ruolo dentro la clinica? All'interno della clinica sono responsabile dell'EASO. Quindi è una responsabilità molto importante all'interno dello studio dentistico. Il tuo ruolo consiste in? Nel gestire le altre mie colleghe, nel verificare giornalmente che ci siano i lavori, che vada sempre tutto per bene, insomma, filato. In che clinica lavori? Nella sede di Faenza. E te sei di? Di Aoterme. Ah beh, quindi giochi in casa e sei molto vicina alla clinica. Circo una ventina di chilometri. La parte più divertente di lavorare in clinica? La parte più divertente sicuramente è stare con dottori molto giovani e soprattutto tutti del sud. E quindi io mi diverto tantissimo a prenderli in giro per l'accento. È successo anche qualcosa di divertente con i pazienti che tu ricordi in questi anni? Praticamente quasi tutti i giorni arriva il paziente magari simpatico, un po' più anziano, che ti fa le battute soprattutto in dialetto e quindi la cosa divertente è proprio questa, che ti fanno sentire a casa e fai sentire a casa i pazienti. Il ruolo dell'assistente alla poltrona? Ovviamente tu sei responsabile, ma quale sarebbe, diciamo? Allora, il ruolo fondamentale è assistere il paziente in tutto e per tutto, quindi a livello psicologico e anche solo tenendogli la mano mentre viene curato. Assistere il dottore e avere comunque quell'occhio sempre più avanti del dottore, quindi di intercettare sempre quello che vuole e quindi di anticiparlo nel lavoro per velocizzare il tutto. Quindi tu sei responsabile, quindi è un ruolo molto importante all'interno della clinica. E qual è quindi sto ruolo? Spiegacelo un attimo. Allora, il ruolo è di essere responsabile delle mie colleghe e mantenere ordine e igiene dello studio sempre ottimale, dare sempre motivazione alle colleghe, quindi di mantenere sempre tutto al top e in questo modo si lavora sicuramente meglio.